Il turismo culturale rappresenta una leva strategica per la rivitalizzazione economica dei territori, specialmente in un paese ricco di storie e patrimonio come l'Italia. L'innovazione tecnologica, in particolare l'intelligenza artificiale, può amplificare questo potenziale trasformando l'esperienza dei visitatori e generando nuove opportunità economiche. Muro tenente tra Latiano e Mesagno è un esempio emblematico. Questo sito archeologico messapico, testimoni di un passato ricco e complesso, offre un'opportunità unica per sperimentare come l'IA possa essere impiegata nel turismo culturale. L'intelligenza artificiale, infatti, può rivoluzionare il modo in cui i visitatori interagiscono con il patrimonio culturale attraverso applicazioni di realtà aumentate. I turisti possono vedere muro tenente e prendere vita visualizzando ricostruzioni storiche o ascoltando racconti e aneddoti legati al sito. Queste tecnologie non solo arricchiscono l'esperienza ma possono anche facilitare l'apprendimento e la comprensione storica. L'adozione dell'IA nel turismo culturale può avere un impatto economico significativo. Attraverso la personalizzazione delle visite e la creazione di percorsi su misura si possono attrarre più visitatori e incrementare la spesa turistica. Inoltre si può ottimizzare la gestione delle risorse e contribuire alla sostenibilità del sito preservando il patrimonio per le generazioni future.